Questa è la storia di un italiano considerato fortunato protagonista di mille gesta invulnerabile e invidiato subì un naufragio, fu ripescato dopo nemmeno un quarto d'ora cadde l'aereo, fu ritrovato in mezzo ai rami d'un baobam sfuggì ai selvaggi, ai pesci e cani, sfuggì persino alla donna che amò ma non riuscì a sfuggire alle tasse e da quel giorno la fortuna lo lasciò ora per strada parla da solo, gira in cilindro e canottiera complementare con quaglio e d'icce, categoria di gruppo B sfuggì ai selvaggi, ai pesci e cani, sfuggì persino alla donna che amò ma non riuscì a sfuggire alle tasse e da quel giorno la fortuna lo lasciò la triste storia di un cittadino considerato fortunato e dei milioni, malavanoni, mezza nastrata lo accettò mezza nastrata lo accettò grazie a tutti